Udinese è Napoli 1 a 1, termina con un pareggio, dunque un punto che si prende in Napoli e dunque Napoli è campione d'Italia. Campione d'Italia 2023, Scudetto più che meritato, lo sapevamo che andava a fine così, prima quindi del campione Serie A capolista ottiene questo meritato Scudetto. Bastava un punto raggiunto da Napoli con questo pareggio di oggi. Per segnale brutulese è stato Sandy Lovic al primo tempo, il Napoli risponde nel secondo tempo grazie alla rete di Victor Oshimema. Le statistiche sono tutte a favore del Napoli che gareggia in una maniera veramente piacevole e perfetta azzarda a dire, quindi se poca roba fa, poca roba compie. Dal vostro narrato italiano di Youtube d'Italia è tutto, iscrivetevi mi raccomando al canale, commentate, datemi le vostre opinioni da ingraverle, mi raccomando iscrivetevi al canale e ovviamente informatemi di quello che pensate, della vostra opinione barra del vostro punto di vista. Un cordiale saluto a voi, al prossimo video, una buona sera da tutti.